Protagonista indiscusso dell'estate non può che essere il gelato, abbiamo chiesto al proprietario di una gelateria di Bitonto di creare l'abbinamento ideale di gusti, vediamo. Non è estate senza un buon gelato, conta poco che si scelga il cono, la coppetta e conta poco che i gusti siano quelli tradizionali o altri più fantasiosi. Umberto Cazzolla, titolare della gelateria Madomio di Bitonto, recentemente inserita tra le 10 migliori di Puglia, ha ben chiaro l'abbinamento migliore per soddisfare i clienti. Il gelato con la panna doppia deve assolutamente essere considerato. Allora, io metterei un lampone che è un gusto molto fresco, molto frizzante, ha una punta di acido, però sposa perfettamente il pistacchio, in questo caso questo pistacchio siciliano, così. Se vogliamo proprio, diciamo, usare, io non toglierei anche una punta di fondente, che sposa bene con sia i frutti rossi che con il pistacchio, e poi ciliegina sulla torta, metterei un altro ciuffetto di panna, così, e un biscotto, un biscotto tipico di Madomio. E questo è il cono per Radio Norba. Grazie.